non viene a Luisa dai consegniamo questa targa ok consegniamo la targa motocuzzi con gestionario fermi grazie con la stretta di mano no perchè per fermare voi aspettate il flash adesso aspettate voi ecco ecco l'altro bacio alla valletta un altro bacio alla valletta l'altro bacio alla valletta facciamo parte di piano